Buongior ragazzi, è domenica, io sono in pigiamatissima oggi, qui c'è qualcuno che vi vuole salutare Canti Garo Deber, stai cantando Garo Deber, ciao ciao, ciao amore, ciao, scusate il solito rumore c'è sempre il robottino che mi investe Oggi come colazione ragazzi vorrei qualcosa di molto leggero e detox perché in questi giorni ho mangiato troppo, onestamente troppo E quindi pensavo di fare un altro frullato con lo spinaccino, il mango e la banana Ingredienti, mango, spinaccino, banana già nel frullatore e ci manca il latte di mandorla Che non ho più in frigorifero, ah sì eccolo qua Versato tutto, spinaccino, mango, banana, manca solo il nostro latte di mandorla Voilà, penso che possa bastare Comunque volevo farvi notare che sono due settimane che ho un'orchidea in casa bellissima ragazzi Ed è ancora viva, yay Robottino che fa casino, Deber che grida dall'altra parte della casa non si sa perché si è andato a gridare di là Ebbene le cose in casa mia come vedete sono sempre uguali Cin cin ragazzi, ho molto bisogno di un po' di alimenti detox diciamo così perché in questi giorni ragazzi mi sono abbuffata Come se non ci fosse un domani, un dopodomani e tutto l'anno Quindi sì, oggi ho pensato, oggi relax a casa, detox, mangio solo roba leggerissima E invece mi hanno invitato a un aperitivo stasera quindi non penso che mangerò solo roba leggerissima Per fortuna ho una bottiglia di vino in frigo altrimenti non saprei che cosa portare Perché mi sa che i supermercati sono ancora chiusi domenica E' una bellissima giornata ragazzi Il bello è che allora prima che finisse la quarantena pensavo appena finisce questa quarantena io vado in giro ovunque Cioè la casa non mi vede più, sono fuori dalla mattina alla sera Allora beh è vero che nei primi giorni effettivamente mi sono vista molto con gli amici e quindi ho fatto serata eccetera Però subito dopo dico beh questa quarantena mi ha stancato così tanto che io non ce la faccio ad uscire sempre Sono stanca, ormai sono abituata a stare in tuta e in pigiama a casa Quindi alla fine ragazzi vabbè No in realtà oggi esco, volevo fare una serata tranquilla, una giornata tranquilla, una serata tranquilla e relax a casa Ma appunto stasera esco Come avrete intravisto dal titolo tra l'altro che ve lo metterò nel titolo penso Ho una notizia mega mega super fantastica che tutti stavamo aspettando da un bel po' Ma i ragazzi ho trovato casa bloccata, firmata, pagata, ho trovato casa ragazzi E ve la farò vedere tra un po' vi farò proprio un home tour virtuale Vi faccio vedere tutte le fotografie ed il video della mia nuova casa ad Alkmar Sono stra 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 felice E' bellissima, è gigantesca C'è un giardino molto grande, c'è l'accesso al canale come avevo nell'altra casa E' molto luminosa, ci sono quattro stanze da letto più Quattro stanze da letto più se non sbaglio un garage trasformato in studio Sono 130 e qualcosa metri quadri più il giardino Sono tipo 165 metri quadri, 170 metri quadri tutto quanto con il giardino Siccome avrò quattro stanze sto un attimino, intanto sto già pensando come arredare E visto che avrò quattro stanze io sto pensando di fare una camera da letto Il mio studio slash camera degli ospiti perché c'è il divano letto nel mio studio con i due materassi Pensavo di fare in caso due cabine armadio Una per gli abiti, l'altra per borse e scarpe Ma è tutto da vedere Quattro stanze da letto per me da sola Bastano e avanzano Quindi sono felice perché riuscirò ad avere sia la mia stanza da letto Che il mio studio dove filmo, lavoro E con inclusa stanza degli ospiti Una cabine armadio E poi devo vedere appunto se due stanze sono un pochino più piccoline Dividerò l'altra parte della cabine armadio In due stanze diverse Cioè dividerò la cabine armadio in due stanze diverse Sono troppo troppo felice ragazzi Non vedo l'ora di farvela vedere Io adesso sto organizzando il trasloco ragazzi Dovrebbero arrivarmi questa settimana gli scatoloni Probabilmente già domani Quindi da domani in poi questa casa sarà un casino Sto apprezzando l'ordine Perché sapete che io non riesco a vivere nel casino E quando trasloco o ci sono lavori Insomma faccio serie E ho grosse difficoltà ad accettare il casino E' una cosa che non sopporto Quindi per me i traslochi Oltre ad essere ovviamente impegnativi Perché si sa i traslochi Poi io ho tanta roba Troppa roba E il fatto è che per me sono anche impegnativi Psicologicamente perché c'è tanto casino E io non sopporto il casino Quindi ve l'ho ripetuto forse 70-130 mila volte Quindi questo Sì domani probabilmente arrivano gli scatoloni E da lì si inizia tutto l'inscatolamento Di tutte le cose negli scatoloni Il 26 di giugno dovrei avere le chiavi della casa Quindi ho tempo fino al 26 di giugno Da quel momento in poi Poi mi arriveranno i mobili Quindi dovrò andare io su E vedere un attimino come sistemare tutti i mobili Sarà una bella avventura ragazzi Ma vi dico Entro un mesetto Il tutto succederà E quindi devo preparare tutto quanto prima Devo anche andare dal commercialista A parlare appunto per il cambio Partita IVA eccetera Cioè devo chiudere la mia partita IVA in Italia Aprirla in Olanda Nel frattempo devo anche portare i gatti Dalla veterinaria Perché per portarli all'estero C'è bisogno del microchip e del passaporto Cosa che Audrey già ha Ma gatto Denver no Perché l'ultima volta l'ho portato giù E non gli ho fatto il microchip Quindi devo portarlo a fare Il microchip e il passaporto E poi non so se ci sono altre Vaccinazioni obbligatorie Se si portano i gatti all'estero Quindi questo me lo dirà la veterinaria Quindi questa è un'altra cosa che dobbiamo fare Nel frattempo sto più che altro Sto perdendo un sacco di ore A guardare mobili Perché lo sapete devo La casa non è ammobiliata Quindi la arrederò io completamente Ho già la cabina armadio in realtà Che è quella che avevo a casa di Tomas Che era la mia cabina armadio Quindi ho già tutta la cabina armadio Tutti i mobili Penso di dover aggiungere ancora qualcosina Per la cabina armadio Perché qui sarà molto grande O addirittura in due stanze Quindi dovrò comprare qualcosina Poi devo comprare soggiorno Intero Soggiorno sala da pranzo Perché c'è anche la sala da pranzo E poi i mobili per il giardino Quindi sto guardando tantissimo mobili E robine del genere Mi piace tantissimo Maison du Monde C'è un letto che vorrei Ma che è sold out Ma sono riuscita a trovarlo Su un altro sito Insomma sto praticamente Mi sto dedicando moltissimo All'arredamento della casa Anche se non ci sono ancora fisicamente Ma devo decidere i mobili In modo che non appena Mi danno le chiavi Poi appunto vado su Perché in questo momento C'è una persona che ci sta abitando O una famiglia Non ho ben capito Comunque ci sono delle persone Che io Che do sempre dettagli Che non c'entrano niente E ci sono delle persone Che ci abitano Quindi loro escono Il 25 di giugno E quindi poi dal 26 di giugno Ho le chiavi E posso fare arrivare Tutti i mobili Eccetera eccetera E dopodichè Quando tutti i mobili Saranno già lì Io arriverò Con il resto delle cose Cioè tornerò giù Con l'aereo E poi tornerò su Con tutto il resto delle cose E ci sarà la ditta Proprio di traslochi Che porterà Tutti gli scatoloni Quindi Ragazzi Sì Dal 25 26 di giugno In poi Appunto Lì in quei giorni Sarà fine giugno Inizio luglio Mi trasferisco Definitivamente E appunto Sono stra felice Alla fine Nessuna casa Andava alla fine bene Non lo so Doveva essere destino Che io prendessi questa Ed è sul canale Il retro In realtà è sul canale Quindi il giardino dietro L'accesso sul canale È enorme ragazzi Perché quattro stanze Più lo studio È luminosa Non lo so Doveva Era destino Che io prendessi questa E quindi Tra poco ve la farò vedere Intanto prima faremo il trucco Forse voglio Fare anche i capelli Non lo so Perché Senza tagliarli E senza extension Questo è quello Che mi rimane ragazzi Quindi devo Non vedo l'ora Di fare l'extension Dovrebbero Forse avevo già Una speranza per oggi Ma Visto che Non si sono fatti vivi Quelli di Goran Willer Non penso che sarà oggi Purtroppo Ahimè Ma In settimana Dovrei andare a riapplicare L'extension Che come sapete Io applico Per il volume E non Per la lunghezza Comunque ragazzi Io qui Il mio frullato L'ho quasi finito Mi sento molto meglio Eviterò il resto Per colazione Perché ragazzi Ho mangiato Voi non avete idea Mi sento gonfi In viso Per quanto ho mangiato In particolare Ma neanche tante schifezze C'è un po' C'è un po' Porefessional Fidanzati Fidanzati Fidanzate Come è stato Rivedere gli amici Sono curiosa di sapere Come state Perché so che è stato Un periodo difficile Non solo per me Beh per tutti È stato un periodo difficile Però so che molti di voi Hanno avuto difficoltà Quindi Voglio chiedervi Come state Se state passando Questo periodo Se stanno migliorando Le cose per voi O Sì insomma In generale Se state bene Voglio sapere Come state Se sta Un po' Migliorando la situazione Rispetto a prima Dai che Alla fine Le cose si stanno sbloccando E Quindi I numeri sono Insomma Molto incoraggianti E sono Io sono tanto felice Di poter Sto cercando Cioè sto apprezzando Tantissimo Ricordandomi Che non devo Smetterla Di apprezzare E non devo Cioè non devo Dimenticarmi Che queste sono cose Da non dare mai Per scontate Però Il fatto di poter Girare liberamente Di poter Andare dai miei amici Cioè di poter Fare un aperitivo Con loro Il fatto di poter Uscire E a fare un giro Per i negozi Che sono aperti Ragazzi Non lo so Mi sembra Mi sembra tutto Mi sembra quasi Quasi strano Cioè mi sembra Incredibile E quindi Queste cose Sono Veramente Mi stanno Vabbè A parte che Ragazzi Ho avuto Una bella notizia Dopo l'altra Perché nel senso Hanno riaperto tutto Ho rivisto Tutti i miei amici Adesso ho trovato La casa Quindi sono Veramente Stra Stra Emozionata E Un po' Ovviamente Impaurita Perché Un Un trasloco del genere Da sola Non l'avevo mai fatto Però c'è da dire Che sono stata in Olanda Da sola E quando ci siamo lasciati Con Neil Poi io sono rimasta Da giugno A dicembre Insomma Non tantissimo Però sono rimasta su E mi piaceva E quindi Ero felice Non che qui non lo fossi Ma l'Olanda Mi è sempre mancata Lo sapete E quindi per me Il fatto di poter tornare su È una grossa gioia Una grande emozione Ragazzi Stiamo per trasferirci Dall'altra parte Dell'Europa Ma vi rendete conto E voi mi seguirete In tutto In tutto Tutto il trasloco Tutto il procedimento Tutto Vi farò sapere Vi tengo aggiornati Su tutto Ovviamente Non sarà semplicissimo Il prossimo mese Quando dovrò Trasferirmi Ma vedrò Di filmare Magari dei vlog Perché magari In quel periodo Non riuscirò A filmare Videostatici Davanti alla videocamera Nel mio studio Perché ovviamente Sarò Qualche giorno Un po' qui Un po' là Con gli scatoloni Però Cercherò Assolutamente Di tenervi aggiornati Con i vlog Ma manca ancora Un mesetto Quindi adesso Non pensiamoci Devo Oddio ragazzi Devo assolutamente Raccontarvi sta cosa Vabbè Ieri Esco Ieri sera Torno Di notte E sento Delle voci Ragazzi C'era la televisione Accesa Allora Io Se esco Allora Non credo Perché ero tornata a casa Per tipo 15 minuti E poi sono riuscita Non credo Onestamente Di averla accesa Io Perché per quei 10 minuti Che ero a casa Non ho acceso La tv Però Cioè Non voglio dire Allora Il telecomando Era sotto al tavolo Quindi non possono Averci camminato Sopra i gatti Questo Lo escludo Assolutamente Perché l'ho detto Anche a Chiara Oddio Chiara Sono tornata a casa Sono tornata a casa E c'era tv accesa Oh mio dio E lei mi ha detto Guarda che succede anche a me Magari i gatti Camminandoci sopra L'hanno acceso Sul telecomando Intendo Però Il telecomando Non era alla portata Dei gatti Quindi questo No Quindi O può darsi Lei mi ha anche detto Guarda Nicole Che magari è saltata La corrente E poi Quando Ritorna la corrente Ti si accende la tv Anche questo Mi è successo Ma stavolta Non è questo Perché Se si stacca la corrente Si staccano Anche l'ora Del microonde E del forno normale E lì la corrente Non è saltata Quindi L'unica spiegazione È che O qualcuno O qualcosa Mi ha acceso la tv Quando io non c'ero Oppure Io Non ho spento la tv Che ovviamente Voi direte Nicole La cosa più plausibile È il fatto che tu Probabilmente non hai spento la tv Ah comunque Volevo dirvi Poi ho usato Il my skin But better Di mesauda Il colore Il 501 Porcelain Ragazzi Mi sto trovando Da dio Con questo fondotinta L'unico problema È che non ha Sempre una tenuta Top Dipende un po' Con quale primer Quale primer Ci abbino Però Come colore E come resa Ragazzi Nel senso che Non si vede addosso È super naturale Mi piace tanto E quindi Vi stavo dicendo Ehm E ho Ho lasciato io La tv accesa Però Mi sembra strano Più che altro Come faccio Non accorgermi Che c'è la tv accesa Se non appena sono entrata Ho sentito Le voci della tv Cioè Me ne sarei accorta Quando uscivo Che c'erano le voci della tv Bu Non lo so ragazzi Non lo so Questa è l'ultima L'ennesima Cosa strana Che succede In questa casa In questa casa Ammesso che ci sia qualcosa Speriamo che non mi inseguo Nella casa nuova Questa è l'unica mia È l'unica mia Speranza Anche se continuo A sentirmi Molto bene Molto tranquilla In casa mia La cipra Che sto applicando Quella di Jeffree Star Non voglio farmi coinvolgere Troppo in questi argomenti Perché poi So che vi viene Tipo L'ansia E quindi Viene anche a me In realtà Allora Finiamo di applicare La cipra Appunto Sto usando Quella di Jeffree Star Mi trovo molto bene Con i suoi prodotti Ok Non devo metterne troppa Perché altrimenti Ho notato che si vede tanto Sul fondotinta Quindi devo stare attenta Altra piccola novità ragazzi È che ho fatto un po' Di shopping Pazzo Ho preso Una cosa Di Una cosuccia Da Chanel Ve l'avevo detto Che c'era una cosa Di Chanel Che volevo prendere Già nell'ultimo video E siccome Non ero Non c'era ancora riuscita Per ovvi motivi Che era tutto chiuso Adesso hanno riaperto Le boutique E Credo di essere stata una Tra le prime A rifare Subito Un nuovo acquisto Che non vedo l'ora Che mi arrivi Dovrebbe partire Anzi Dovrebbe So che parte domani Dalla boutique Di Venezia E quindi dovrebbe Arrivarmi Martedì Troppo 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 Felice ragazzi Siccome ci sono C'è solo una cosina Non so se fare Proprio un unboxing Oppure se Integrare L'unboxing In un vlog Come questo Fatemi sapere Se vi può Piacere anche solo Un unboxing O se è meglio Appunto Integrarlo in un vlog E li metto Nella giornata Insomma vi faccio Anche l'unboxing Ditemi voi Che cosa preferite Come al solito Blush È il Dandy Lion Di Benefit Uso sempre quello Da secoli Non mi ricordo il nome E la terra E la hula Ragazzi Immancabile Duo Per me Per quanto riguarda Che tra l'altro Non mi sto truccando Da È da giovedì Che non mi trucco Da mercoledì Da mercoledì Che non mi trucco Quindi ho fatto Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Senza trucco E oggi che è domenica Mi trucco Perché ho fatto Se avete visto Il vlog precedente Ho fatto il trattamento Quello con I micro aghi Ad ultra frequenza Può darsi che si chiami così Comunque c'è Ci sono appunto Questi aghetti Che vanno sotto pelle E poi c'è questa scarica Tipo elettrica Che Mi avete visto Molto sofferente Nel video Quindi Non ho potuto truccarmi Per Per qualche giorno In realtà mi aveva detto Valentina Che potevo truccarmi Nuovamente Sabato Però Alla fine ieri Ho deciso di fare Riposare la pelle Ancora per un giorno E quindi mi sto truccando oggi Perché no ragazzi Perché no Fatemi sapere Se c'è qualche challenge O qualche video In particolare Che volete Che vi filmi Io ho già diverse idee Che mi sono segnata Specialmente adesso Che si può finalmente Uscire Che i ristoranti Sono aperti Che insomma È tutto di nuovo Più o meno Come era prima Mi sto segnando Una lista Di tutti i video Che voglio fare Però Sono sempre Aperta A Vostri Consigli E richieste Ragazzi Quindi Che sapete Che come al solito Seguo sempre Alla lettera Penso che Infatti Idea vostra Che mi avete dato voi È di fare La reaction Al video Di Isima Che ha fatto Su Vabbè Lo vedrete Quindi mi avete consigliato In tanti Di fare la reaction Quindi sicuramente Penso che la filmerò domani Quindi sarà online Se la filmo domani Che lunedì Sarà per voi online Martedì su youtube Sempre 17.30 Mi raccomando Io mi dimentico Sempre di dirvelo Nei video Perché Non lo so Non ci faccio caso Ma ragazzi Se vi piace il video Come al solito Mettete like Se non siete ancora iscritti Iscrivetevi E seguitemi su instagram Tutti lo fanno Tutti gli youtuber Decenti Io invece mi dimentico Sempre di dirvelo Tanto oggi ragazzi Voglio truccare Un po' gli occhi Niente di che Ma un po' di eyeliner E un po' di Ombretto Perché no Oggi mi sento Che ho voglia Di truccarvi un po' di più E da un sacco di tempo Che ho detto Solo mascara e base Mascara e base E oggi voglio truccarvi Un pochino Quindi La Il primer Di Fenty Beauty Sì ragazzi Perché voglio dire Durante questa quarantena Già che io comunque Non è che faccio Chissà che trucchi Elaboratissimi Mi piacciono comunque I trucchi più eleganti Più classici Sento campane Che non so di Quale chiesa siano Onestamente E Però Ultimamente mi sono truccata Ancora meno Del solito Quindi oggi vorrei Almeno un po' di Ombretto Marroncino Marroncino Non mi mancherà Non mi mancherà la sensazione Di essere bloccata Non mi mancheranno Gli incubi terribili Che ho avuto in questo periodo Alzate la mano Se li avete avuti anche voi Ho sentito che è stata Una cosa molto diffusa Non mi mancheranno Sensazioni di paura Angoscia E Tutte robe del genere Però sicuramente Sicuramente Mi mancherà Questa Stare molto comodi Tutto il giorno Ogni giorno In pigiama Tutta E Proprio Outfit Stracomodi Scusate Mi sto facendo un casino Ma sto cercando Ok Stavo cercando questa palette La Pitchy La Just Pitchy Mets Di Too Faced È meravigliosa E Voglio usare Un marroncino Di questa palette Ok ragazzi Sto Solo Cercando di Stirarmi i capelli Non lo faccio Di solito Ma Oggi Li ho appena lavati Mi sembrano tutti molto Arruffabili Tutti molto Svolazzanti Non lo so È veramente Una tragedia Ragazzi Senza l'extension Perché Ho perso Un sacco Un sacco Di capelli In questo periodo E quindi Il volume È quello che è Ah Stavo dimenticando Di Fissare Il trucco Oggi uso Il fissante Di Too Faced Hangover 3 in 1 Peach Extract Al profumo Di pesca Adoro 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 Questo profumo Comunque ragazzi Mi sembra Impossibile Che siamo usciti Dal Del lockdown Della situazione In cui Eravamo Un mesetto fa Cioè se ci penso Come ero Un mesetto fa Mi sembra Veramente impossibile Che finalmente Si sia Si sia Riaperto Tutto E si possono Vedere gli amici Tra un po' I sommari Riaprono le regioni Quindi È bellissimo Bellissimo Bu Non lo so ragazzi Sono Oggi Probabilmente Vi ripeterò Miliardi di volte Che sono felice E me ne rendo conto Se è troppo Scusatemi E che sono talmente felice Che siamo usciti Dalla situazione Difficile Emotivamente Psicologicamente In cui eravamo Fino a qualche settimana fa Che mi sembra Non lo so Mi sembra impossibile Veramente di essere riuscita A venirne fuori Da sola Con le mie forze Da sola Non Non ci posso ancora credere Cioè se qualcuno Mi avesse detto Nicol Tra qualche mese Ti ritroverai Nel bel mezzo Di una pandemia mondiale Da sola Cioè Probabilmente Mi sarei messa A piangere Invece alla fine Non solo ce l'ho fatta Ma sono riuscita Ragazzi A realizzare Quello che Più volevo Cioè trovare casa In Olanda E ad organizzarmi Il trasloco Sono riuscita Tra l'altro Anche a prendermi bene Cora di me stessa E di Pensare Cioè sono Ho finalmente Pensato in questi mesi Soltanto a me E a Mi sono un attimino Concentrata Su quello che volevo io Su quello che Voglio Cosa che non mi sono Su cui non mi sono mai Soffermata Penso appunto di Che ritrovarmi da sola Mi abbia aiutato Tantissimo a crescere Proprio a A diventare Più indipendente E non sto parlando Naturalmente Economicamente Indipendente Ma proprio Proprio Psicologicamente Mentalmente Anche Riuscire A avere la consapevolezza Che ce la posso fare Da sola E ok Capilli fatti E ce l'ho fatta Da sola E voi Da sola Diciamo che Diciamo che L'aiuto vostro Della mia famiglia E dei miei amici Seppur a distanza E ha fatto molto Perché Avervi qui Per me Sapere che ci siete Sempre Non è una cosa Da niente Quindi questo Sicuramente Mi ha aiutato Mi avete aiutato Tantissimo In questo periodo Ragazzi Non so neanche Come dirvi Quanto mi siete stati vicini Quanto mi avete aiutato Anche il fatto Di avere Un lavoro Come quello che ho Di poter Comunicare con voi Di Anche il fatto Di continuare Comunque a lavorare A creare contenuti Creare video Creare foto Creare storie Eccetera Mi ha Mi ha veramente Aiutato tantissimo Altrimenti Non lo so Che cosa avrei fatto Veramente in questo periodo Senza di voi Ragazzi Quindi Vi sono Vi sono grata Tutto questo Mi ha aiutato Ad uscire Da questo periodo Molto più forte Di prima Molto più consapevole Per tantissime cose E anche Molto più Rigida Su altre Perché ho imparato Che su certe cose Devo per il mio bene Essere rigida Devo prima di tutto Pensare Io A proteggere Me stessa Perché se Non mi voglio bene Io E non mi proteggo Io Nessuno lo farà Per me Sì Insomma Queste cose qua Ho imparato Ho imparato In questo periodo Un po' Incasinato Parlare di tutto ciò Però Sono Tutto sommato Sono molto felice Perché speravo In quel brutto periodo In cui non vedevo Una fine Ok Mi vedevo chiusa in casa Per sempre Da sola E adesso Riesco a vedere Col senno di poi Quanto sono stati difficili Quei momenti Ma grazie al fatto Che ho avuto Dei momenti difficili Riesco adesso Ad apprezzare Tutto molto di più E a ritrovare La mia felicità E anche a capire Che nonostante Arrivino dei momenti Brutti Bui Difficili Nella vita Ci si può sempre Rialzare Più forti di prima E anche che Quando ci sono Momenti difficili Non dureranno per sempre Niente dura per sempre Le cose belle Ok Ma neanche le cose brutte Quindi Insomma La vedo così E sono felice Davvero di avervi avuto Accanto Vabbè Comunque vi ho sempre accanto Questa è la cosa importante Per me Non abbandonatemi Adesso che la pandemia Mi è finita Mi prego Mi abbandonatemi Però il fatto che ci siate stati Per me In questo periodo Non lo so Vi ha Ci ha avvicinati Ancora di più Secondo me Ci ha Fatto capire Che veramente Abbiamo bisogno Io di voi E voi di me Ok Quindi Basta Basta Con questi pensieri Melancolici Come si dice Che se no Mi emoziono E Direi di no Quindi questo è Il make up Ragazzi Di oggi O come al solito Aspettate che alzo la luce Altrimenti mi sa che Non vedete Gran che Eccolo qui Make up di oggi Ragazzi Tanto illuminante Terra Blush Come al solito Molto naturali E poi Ho come rossetto Il mio preferito Il love you back Di mac Adoro Ed è un Si è un matte Però è Comunque non secca le labbra È fantastico ragazzi E poi finalmente Ho messo un po' di ombretti E un po' di eyeliner Per la prima volta Dopo secoli E adesso che cosa faccio Niente Poltrisco E mi riposo E sto con i gattoni Fino poi All'ora dell'aperitivo Che uscirò Se vi mancava Il suono Della lavatrice Eccola qua Ve la faccio sentire subito Ta da I gatti Cosa combini tu Cosa combini tu Gatto chiacchierone Gatto chiacchierone Che non sei altro Saluta tutti i tuoi fan Gatto never Che ti adorano tutti Ti adorano tutti Dovremmo fare gli incontri Con gatto never E tutti verranno ad abbracciarti Tutti in fila E verranno dare i bacini Si E gatta stellina Che come al solito Si fa desiderare E' troppo pigra lei Per avvicinarsi Bisogna andare noi da lei Ciao stellina bellissima L'abbiamo spazzolata di nuovo L'ho spazzolata E ha un pelo bellissimo Morbido Ha un po' di forfora Devo dire Ma per il resto Ha un pelo morbido Morbido Senza quei nodi brutti Che si formano Specialmente qui vicino Alla coda Si formano Sei bellissima Stellina mia Stellina mia Che a luglio farai Undici anni Non ci posso credere Che hai già undici anni Gatta stellina mia Non ci posso credere Che era nel 2009 Tu eri piccola Piccola E ho fatto anche il video Qua su youtube Che eri tu piccola Pensavo fossi un maschio Gatto Denver Non puoi essere così geloso Devo carezzare anche Gatta stellina Lo vuoi capire I baci I baci Sì Tanti baci Tanti baci Amore mio Nel frattempo Ha finito Anche l'asciugatrice Così tiriamo fuori Sta roba E sistemiamo Anche questa Questo Lo piego E lo Stireremo Ragazzi Perché Decisamente Non sono belle Le lenzuola Tutte Stropicciate Quindi E questo Tra l'altro Ce l'ho Da una vita Veramente Penso Che sia stato Il primo Coprepiumino Che ho mai Comprato E ce l'avevo Ancora Ad Amsterdam Anche questa Giacca Jeans Andrà Stirata Quindi la metto Da parte Questi pantaloni Non serve Stirarli Anche se A vederli Sono tutti Stropicciatissimi Ma Visto che sono Perfettamente Aderenti Una volta Indossati Gatto Denver Calmati Gatto Denver Calmati Una volta indossati Appunto Non si vede Assolutamente Che Sono stropicciati Non so che cosa Ci devo fare Con questo gatto E quindi Cosa vuoi dire Cosa vuole dire Lei Fiorgaronever Fiorgaronever Sei bellissimo Sei bellissimo Amore mio Con questa panciolona Hai la pancia tutta Morbida e soffice Sì Io ti amo Io ti amo Amore mio Che faccia Aiga Non è bello Qualcuno Si è preso I baci E ai segni Del rossetto Qualcuno Ai segni Del rossetto Ma smetti La patatino Tra l'altro In molti mi chiedete Riguardo la lavatrice Dove è finita Quella dell'LG Quella grande A doppio cestello Ragazzi Quella la porto con me In Olanda Questa invece La lascerò qui Perché darò la casa In affitto Come sapete Quindi Questa sarà la lavatrice Di chi verrà ad abitare qua Invece l'altra Perché ho due lavatrici Quindi tre In realtà Tre cestelli Due lavatrici E invece In realtà L'altra La porterò con me Nei paesi bassi Che bellezza ragazzi Che bellezza Sono stra felice Di avercela fatta Sono riuscita A trovare casa Sono riuscita Ad organizzare il trasloco Sono riuscita A fare tutto da qua E mi sembra impossibile Appunto Essere riuscita Ad organizzare tutto Il trasloco Ad avere casa Non lo so Mi sembra Troppo bello Per essere vero Ma Nicole Pensa di meritarti Quello che hai Io ho sempre il problema Che penso di non meritarmi Pensa di meritarti Quello che hai Quello che sei riuscita A fare Brava Nicole Mi auto incoraggio Dovremmo farlo tutti Specialmente se siete Un po' come me Che mi butto Magari un po' troppo giù Invece ce l'ho fatta Sono contenta Vabbè ragazzi Niente Continuiamo a poltrire La lavatrice Ho quasi finito Quindi tra un po' Potrò Spostare tutta la roba Nell'asciugatrice Non ho ben capito Se in casa nuova C'è l'asciugatrice Oppure no Secondo me Non c'è Perché Allora Su quattro case Che avevo Tre avevano L'asciugatrice E una no Però se non c'è La compro Nessun tipo di problema La lavatrice Già ce l'ho Quindi happy Non so se ci starà Il frigo In questa casa Anche quello Eventualmente Dovremmo comprarlo Invece come vi dicevo Il mio studio Viene tutto via E gli unici mobili E gli unici mobili Che porterò via Sono quelli Del mio studio Quindi lo studio Ce l'ho La cabina armadio Ce l'ho Che è quella Che avevo in casa Di Tomas E quella Che ho qui La lascio Ok La lavatrice è finito E Ricomperò il letto Ragazzi Ho visto un letto Che mi piace troppo Vi giuro È tipo Imbottito Fatto in velluto Grigio Oppure rosa Ma non un rosa Acceso Cioè vabbè Vedrete Non lo so Per adesso Sto pensando tutto Mamma mia Stipendi Gatto Dai Comunque Lavatrice Finita Svuotiamo tutto Mettiamo ad asciugare Ok Azionate l'asciugatrice Che fa un casino assurdo Perdonatemi La cosa che devo fare Sono appunto È una lavatrice Forse dopo Se riesco Ne faccio un'altra Ma Non sono sicura Che Non posso Tenerle Accese Contemporaneamente Purtroppo Per quel problema Del voltaggio Che vorrei cambiare Ma a questo punto Non ha senso Visto che me ne vado Ieri ho fatto anche Il semi permanente Ragazzi Guardate Quanto sono lunghe Le mie unghie Cioè Lo so che per le persone Normali probabilmente Non sono lunghe Però per me lo sono Che le ho sempre super corte Andano sempre a spezzarsi In fretta Invece adesso Guardate che roba Non ci posso credere E stessa cosa Dall'altra parte Ragazzi Non si sono spezzate Incredibile Sono pronta Per uscire Ragazzi Outfit Molto semplice Oggi Ho Soltanto Questa maglia Che ha Una scollatura Carina Eccola E una maglia Maglione lungo Non lo so Con la cintura Dior Jeans E non so Ancora quali scarpe Devo mettere E i miei capelli Sono un casino Ma sorvoliamo Ho anche messo Le due collane Di Missoma Mi chiedete sempre Dove le prendo Queste collane Spero siano a fuoco Sono di Missoma Sia Il choker Che Questo pendente Questo ciondolo Con Se non sbaglio Un ametista E questo è quanto ragazzi Adesso scelgo Un paio di scarpe Lì c'è la bottiglia di vino Pronta Scelgo un paio di scarpe Vorrei mettere le scarpe Da ginnastica Così sono più comoda Alla fine Ho messo le ballerine Che sono comunque molto comode Lo so ragazzi Che è un po' strano Uscire con il cappotto A fine maggio Ma ragazzi Qui fa freddo Cioè io ho freddo Poi torno a casa La sera tardi E non ce la faccio stare Con solo un maglioncino Mi serve un cappotto ragazzi Quindi non giudicate l'età La borsa È la Jumbo In Caviar Di Chanel Con hardware Argento Che in realtà Ho hardware dorato Ma siccome ieri Avevo questa borsa Mi va di usarla di nuovo Andrà bene anche così E niente ragazzi Ci vediamo dopo Qui c'è il mio bicchiere di tè Quindi è un po' incasinata La casa in questo momento Sorvoliamo Sorvoliamo Che mi dà fastidio Sorvoliamo Ma sono in ritardo Devo scappare E' un po' incasinata E' un po' incasinata Eccomi tornato a casa Ragazzi Gatti Dove siete Gatti Gatti Oh mio dio Ragazzi Oh mio dio Sono Io bevo tre bicchieri di vino E mi giro la testa In una maniera Allucinante E il mio trucco è Abbastanza rovinato Sostanzialmente Non del tutto Ciao gatti Ma gattastellina Lascia stare le mie scarpe Sei sempre fissata Con le scarpe Ciao Ciao Tostellina Ciao Gatto d'Ever Ciao 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 Mori mio Sei il mio mostriciatolo Sei il mio mostriciatolo Si Si tutto bianco Si tutto bianco Mori mio Si tutto bianco Guarda che pancia Guarda che pancia Che c'hai Guarda Che pancia Amore mio Amore mio Si 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 guarda C'hai i segni del rossetto Vergognati Vergognati Io mi sono Impigiamata Nuovamente Mi sono rimessa Mi sono rimessa A lavorare al computer Così Recupero alcune email A cui dovevo ancora rispondere Alcune cose ancora da sistemare Prima che ricominci La settimana da lunedì Da domani Volevo però farvi anche il home tour virtuale della mia nuova casa in Olanda Che come vi dicevo è definitiva Avrò le chiavi il 26 di giugno Quindi calcolate che adesso vi faccio vedere tutte le stanze il giardino eccetera calcolate soltanto che i mobili che ci sono qua non saranno i mobili che avrò io perché li comprerò cioè ricomprerò mobili nuovi quindi non saranno questi ok Ehm sono molto molto emozionata ragazzi naturalmente tra poche settimane vedrete con me la casa dal vivo perché ovviamente quando andrò su in Olanda porterò la videocamera con me e vi filmerò i vlog eccetera quindi la vedrete con me anche dal vivo In frattempo appunto vediamo le fotografie ma presto la vedremo dal vivo probabilmente riuscirò anche a farvela vedere vuota ancora già prima di arredarla quindi iniziamo ok sono emozionata ragazzi ok Ok ragazzi questo è il soggiorno dietro di noi c'è il corridoio con l'entrata questo e poi il soggiorno e lì c'è il giardino è molto luminoso quindi sono contenta Allora questa è l'altra parte del soggiorno quindi una visuale un po' più verso sinistra prima era un po' più verso destra qui c'è appunto sempre il giardino qui invece c'è la sala da pranzo E mi piace moltissimo questa porta con questi vetri così pensavo di prendere un divano bianco un po' più grande o forse della stessa misura di questo che hanno loro Un tappeto decisamente più grande e poi dei mobili tutti più appunto tendenti al bianco con qualche nota di rosa non lo so vedremo comunque sì anche il parquet mi piace molto Poi qui invece c'è la cucina appunto da quest'altra parte c'è il soggiorno con il giardino qui c'è la cucina qui c'è la porta d'entrata anche questa a queste forse se abbasso la luminosità riuscite a vedere un pochino meglio Ok forse qui c'è appunto la porta d'entrata e anche questa queste bellissime vetrate qui c'è la cucina che adesso vi faccio vedere un pochino meglio ok qui c'è un dettaglio della porta Ok questa invece è la cucina ancora non ho capito se il frigo rimane o se lo devo comprare io sto ancora cercando di capire le ultime cose Comunque questa e la cucina mi piacciono molto queste piastrelle così con questo motivo e la trovo molto molto carina Vabbè il forno ok questa è la sala da pranzo avete visto prima appunto la porta vi ho fatto vedere dal soggiorno e la porta praticamente sta da questa parte e qui c'è la sala da pranzo qui loro hanno questo armadio che non so se rimane oppure se Invece lo portano via il tavolo mi piace molto e anche le sedie vi dirò quindi stavo quasi pensando di prendere qualcosa di simile E comunque appunto la sala da pranzo non è grandissima però secondo me è molto carino che ci sia una zona a sé appunto dove poter mettere anche un tavolo così grande Poi ecco qui c'è la porta del soggiorno e qui invece c'è l'entrata quindi alle nostre spalle c'è l'entrata c'è questo piccolo corridoio qui c'è la porta che adesso è aperta e poi qui si possono appendere tipo i giubbotti le giacche eccetera E poi ci sono le scale per il primo piano da questa parte c'è anche il primo bagno e poi più avanti c'è il soggiorno il giardino e qui la cucina Ok questo è il vc che come sapete in Olanda è sempre staccato ce n'è sempre almeno uno che è solo un piccolo bagno con il vc non chiedetemi perché ma lì è così E questo è quello all'entrata subito al piano terra Poi questa ci sono quattro camere da letto ragazzi questa è una delle camere da letto che è molto piccola è la più piccolina e se vedete qui c'è un armadio quindi è un pochino più profonda rispetto insomma a questo armadio però è comunque piccolina E qui pensavo di farci la seconda cabina armadio sì perché la mia idea è di avere due cabine armadio visto che le stanze non sono grandissime vorrei farne due In una metterci tutti i vestiti nell'altra metterci solo gli accessori quindi borse scarpe forse gioielli vediamo insomma mi immagino le borse e le scarpe insomma su delle scansie e tenere questa stanza per questo lo so è una cosa un po' sopra le righe però ragazzi io sono molto molto contenta per il momento Poi magari è un'idea che abbandono però per il momento questa è la mia idea per questa stanza qua e questa pensavo di trasformarla nella cabina armadio principale quindi se nell'altra stanza che era piccolina vorrei mettere solo le borse e le scarpe Qui pensavo di fare la cabina armadio principale quella insomma con tutti i vestiti giacca e cappotti in qualsiasi vestito e però devo vedere ancora le planimetrie quindi devo ancora decidere però questa è la mia idea per adesso potrebbe cambiare Ok questa è un'altra stanza ancora in cui non so se farci il mio studio oppure la mia camera da letto perché ce n'è un'altra distanza da letto al piano di sopra ma devo vedere devo essere lì e decidere quale delle due usare come studio e quale delle due usare come camera da letto Idealmente questa vorrei che fosse la mia camera da letto però devo vedere se qui ci sta il letto matrimoniale perché in realtà io ho bisogno di molto spazio nello studio nella cabina armadio ma non di tantissimo spazio nella mia camera da letto perché ho solo un comodino in letto e non mi serve tantissimo altro insomma Il problema sono i vestiti le scarpe le borse e i trucchi allora e poi questo è il bagno che ha la vasca non mi fanno impazzire particolarmente queste piastrelle però sono contenta che ci sia la vasca e che il bagno insomma non sia minuscolo visto delle case con dei bagni ragazzi improponibili Questo è il primo piano praticamente giù c'è il soggiorno la cucina qui ci sono le tre stanze da letto ed il bagno grande e poi all'ultimo piano che è praticamente il sottotetto però è abitabilissimo appena si entra cioè appena si salgono le scale ci sono la lavatrice l'asciugatrice la caldaia eccetera E poi qua dietro c'è una porta con l'accesso alla quarta camera da letto che sarebbe questa e non so appunto qui se farci il mio studio preferirei farci il mio studio qua e giù invece avere la camera da letto con le due cabine armadio che sarebbe la cosa più logica Però devo vedere un attimino se invece un letto così può starci nella stanza sotto quindi devo fare un attimino i conti guardando le planimetrie calcolando la grandezza dei mobili però queste sono le quattro stanze Poi invece questo è il giardino qui c'è la porta con il soggiorno da questa parte e si esce e qui c'è il giardino qui ci sono vabbè c'è un tavolino con delle sedie io ovviamente queste se le porteranno via e io vorrei mettere proprio una lounge con un divanetto una poltroncina Ho due divanetti una poltroncina con un tavolino e il barbecue naturalmente ragazzi quindi questo dimenticatelo e vorrei fare una cosa un po' più carina E qui c'è invece l'accesso al canale c'è un portoncino e c'è il canale insomma io la barchetta non ce l'ho però posso sempre un giorno pensare di prenderla E sì e questo è quanto e questa è la vista praticamente dal canale dal giardino verso la casa che sarebbe questa qua Così questo è l'accesso al canale con il portoncino che vi dicevo c'è poi una specie di moletto tipo bu non lo so non ho ben capito E qui c'è il canale e che è una cosa che adoro avere il canale vicino nelle ultime due case in cui abbiamo abitato in Olanda Avevamo proprio l'accesso al canale io dovevo mangiare alle paperelle passavano i cigni era bellissimo ragazzi Questa è un'altra prospettiva sempre dal giardino verso la casa qui c'è il soggiorno con le due porte Se non sbaglio sì qui c'è la sera da pranzo soggiorno e la cucina qua dietro e poi qui le stanze e poi sopra ancora che qua non si vede Nell'ultimo piano c'è l'altra stanza con la zona lavanderia eccetera E quindi questo era l'home tour ragazzi della mia nostra nuova casa in Olanda Dove io filmerò tutti i miei prossimi video da fine giugno inizio luglio In poi ragazzi non si sa per quanto Mi sta venendo un po' il panico nel pensare di dover fare un trasloco E preparare tutto e traslocare di nuovo Però sono stra felice stra felice Anche perché questa casa era un po' l'ultima opzione che avevo per trovare qualcosa ad Alkmar E ad Alkmar quindi sono stata molto molto fortunata di essere riuscita a trovarla E ad aver insomma sistemato comunque tutto dall'Italia Quindi ragazzi che poi se ci pensate Io vi... cioè noi vivremo questa casa assieme Perché voi siete parte integrante della mia vita Mi seguite nelle mie giornate E quindi sarete partecipi di tutto il trasloco Ed entreremo ad abitare in questa casa assieme ragazzi E voi la viverete con me praticamente Quindi questa casa sarà proprio la casa dove voi vedrete ambientati i prossimi vlog Ovviamente non me lo sto manca di Non so perché me lo racconto da sola che mi emoziona Quindi è... niente ragazzi Questo nuovo capitolo e io sono molto molto... Sì emozionata un po' spaventata Vi devo dire la verità perché comunque fare tutto questo da sola Insomma ok ovviamente con la ditta di traslochi eccetera Però organizzare tutto sperando di aver pensato a tutto Di non essermi dimenticata nulla E vabbè che non è la prima volta che faccio un trasloco dall'Italia all'Olanda Quindi almeno dico boh avrei imparato qualcosa quindi Ma sono comunque impaurita Perché è comunque un passo molto importante E poi... e poi sono emozionata insomma E basta adesso sono troppo emozionata Quindi la smetto Anche perché devo mettermi al montaggio di questo video Ragazzi gatta stellina nel background che dorme Gatto Denver nel background che dorme Io invece adesso mi metterò al montaggio di questo video Di questo video vlog Così domani alle 17.30 sarà online puntuale Quindi mia family io vi mando un bacio grandissimo Vi abbraccio forte qui anche vi abbraccio forte 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 E noi ci vediamo sempre Mi raccomando domani alle 17.30 Baccio bacio Ciao Ciao